Un saluto a tutti della redazione di Rossini TV e benvenuti a questa nuova edizione delle Valle Foglie e Pian del Bruscolo Magazine. Prima di cominciare come di consueto vi ricordo i nostri contatti alle quali potete inviare le segnalazioni, sono sempre più numerose e noi vi ringraziamo. Qua in sovrimpressione trovate il numero di Whatsapp oppure la mail di redazione dedicata appunto a questo telegiornale vallefogliachiociolarossinitv.it. Iniziamo subito con la prima notizia e ritorniamo a parlare della struttura faticente nella zona di Bottega a Vallefoglia perché in seguito appunto alle numerose segnalazioni che ci sono arrivate anche alle interviste delle passate edizioni, questa volta sulle teme è intervenuto direttamente il sindaco Palmiro Lucchielli. Vediamo il servizio. Ci troviamo nuovamente davanti alla struttura faticente presente nella strada principale di Bottega. Sono state numerose le segnalazioni e le problematiche sollevate dai diversi cittadini in merito appunto alla struttura privata. La scorsa settimana è intervenuta anche la consigliera comunale del centro-destra Carla Nicolini che ha nuovamente esposto il problema e noi l'abbiamo rimandato al sindaco di Vallefoglia Palmiro Lucchielli che ha risposto così. Presente questa struttura faticente nei pressi di Bottega, sindaco di Vallefoglia, lei cosa risponde a questa problematica? Io ho già risposto con un'ordinanza che è un'ordinanza sul decoro e sul mantenimento dei beni pubblici e privati già da un anno dopo l'insediamento, cioè da sei anni fa. Poi lì c'è anche un'altra ordinanza dell'ufficio che ancora era responsabile l'ottor Giorgi e poi abbiamo sollecitato con più lettere il tribunale informandogli di quel bene per metterlo in sicurezza. La verità vera è che tutti i beni delle persone che sono fallite sono nelle mani dei tribunali e i tribunali non hanno risorse per demolirli o rimetterli a posto perché gli vengono consegnati i beni di uno che ha fallito. E poi abbiamo chiamato più volte il curatore fallimentare, è venuto anche qualche giorno fa, quindi ho buone ragioni per sperare che diano una sistemata, che lo mettono in maggiore sicurezza e che poi lì c'è un piano particolareggiato nel piano regolatore di privati che speriamo facciano quanto prima la demolizione e costruiscono quello che è previsto dal piano regolatore. I beni privati e pubblici devono essere tenuti bene in maniera tale che c'è un decoro della città perché volendo sarebbe diciamo anche di chiedergli danni per, diciamo, danneggiamento delle immagini di una città che noi curiamo con investimenti importanti su tutti i settori, dai parchi ai giardini ai rotatori, della segnaletica, la sistemazione alla messa in sicurezza degli asfalti e poi ci sono pochi, per fortuna saranno 5-6 casi, di privati che hanno lasciato in abbandono questi beni. E restiamo sempre a parlare del territorio di Vallefoglia perché mercoledì 13 ottobre è stato l'ultimo giorno possibile per vaccinarsi presso il punto vaccini della Casa della Salute di Montecchio. Sono state ben 1885 le dosi somministrate da pediatri, medici e infermieri USCA. Il sindaco Chiele ha affermato di come sia stato importante rispondere in questo modo alle esigenze dei cittadini della vallata che richiedevano un centro più vicino alle proprie abitazioni. Lo stesso sindaco ha inoltre rinnovato l'invito alla Regione Marche a potenziare la struttura di Montecchio con ulteriori servizi, alle fine sempre di evitare scomodi spostamenti presso le strutture ospedaliere di Pesaro e Urbino. E passiamo ora a Montellabate perché nella giornata di giovedì presso la sede comunale in un consiglio straordinario si è svolta la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onorare per i 60 anni di attività a Valter Scavolini. L'imprenditore peserese è stato intervistato anche da noi. Vediamo. Io mi sento onorato di aver avuto questa cittadinanza onoraria di Montellabate. Io dico per me è un'adozione voglio dire cioè dopo tanti anni che siamo qui quasi oltre 50 anni insomma veramente è una cosa interessante, molto interessante e fa tanto piacere perché ricevere questi riconoscimenti non si può dire che non faccia piacere. Se lo sarebbe mai aspettato 60 anni fa? Ma questo qui non di sicuro perché quando siamo venuti su qui per la prima volta a Montellabate a parte che noi eravamo venuti su perché francamente non era facile allora trovare i terreni vicino a Pesaro e così via. Siamo venuti su qua su, era una zona depressa e francamente adesso sembra due passi ma allora sembrava una distanza irraggiungibile. È importante se c'è questo riconoscimento vuol dire che l'azienda va bene ed è importante per tutto perché ormai l'azienda diciamo è un patrimonio nostro certamente ma è anche un patrimonio di tutti, del comune di Montellabate, del comune di Pesaro, diciamo di tutti i dipendenti. Quali sono i segreti per sopravvivere a 60 anni di attività? I segreti sono sempre quella di avere come noi abbiamo sempre fatto dall'inizio anche se da piccoli abbiamo sempre fatto un prodotto di qualità, un prodotto di design, dare un buon servizio, diciamo è quello non è che ci sono cose particolari però insomma bisogna essere sempre molto attenti un po' soprattutto perché certamente che oggi non è facile per portare avanti insomma queste aziende bisogna sempre essere attivi, avere aziende sempre diciamo che non diventino obsolete sempre che siano al passo con i tempi. Mi è venuta quest'idea perché sono convinta che Walter Scavolini col suo intuito quando era molto giovane non era neanche maggiorenne ha creato questa azienda e negli anni è riuscito a dare lavoro a tante famiglie di Montellabate e anche dei comuni limitrofi e questo che cosa ha comportato per il comune? Ha comportato un benessere, uno sviluppo industriale e anche uno sviluppo edilizio perché chiaramente uno cerca di abitare vicino a dove lavora e quindi per il nostro territorio è stata una cosa molto importante, è vero che poi negli anni ci sono stati periodi di crisi però lui è l'unico industriale che è riuscito sempre a superare le crisi perché ha creduto nella sua azienda reinvestendo nella sua azienda e convinto che avesse delle potenzialità. Un grande intuito chiaramente imprenditoriale, uno sviluppo del territorio molto importante e al quale non potevamo non dare un riconoscimento altrettanto importante come una cittadinanza onoraria. Ed ora curviamo a Tavuglia perché dopo il grande successo dell'edizione di settembre torna il 23 ottobre un'edizione straordinaria di Tavuglia in moto, una giornata ricca di appuntamenti per chi ama il mondo dei motori. Ne ha parlato ai nostri microfoni le sindaco delle comune di Tavuglia, Francesca Paolucci, soddisfatta per questa nuova edizione. Tavuglia non si ferma, Tavuglia in moto riparte perché sabato 23 ottobre ci sarà una edizione straordinaria dell'evento che anticipa il Gran Premio di Misano e in merito a questa giornata ricca di appuntamenti ha parlato ed è intervenuto ai nostri microfoni il sindaco di Tavuglia, Francesca Paolucci. L'abbiamo chiamata Tavuglia in moto edizione straordinaria perché comunque è un'edizione straordinaria. Il 23 ottobre a partire dal pomeriggio, che è un sabato, alle 16 iniziamo chiaramente con l'accoglienza quindi anche chiudendo per sicurezza la strada principale del paese. Ci sarà un primo spettacolo presso lo Yellow Park di tutti i bambini che faranno la pista con le loro biciclettine e i caschi, tutto in regola come una sicurezza stradale. Poi ci saranno degli spettacoli di uno stuntman numero uno in Italia di Di Bizzarro, uno spettacolo alle 16.30 e uno alle 18.00. Alle 19 avremo un'intervista speciale a Uccio, Alessio Salucci, amico e collaboratore di Valentino Rossi da sempre. Alle 17.00 arriveranno le moto storiche Benelli e faranno la loro parata all'interno del paese per poi proseguire nella serata con una musica speciale d'eccezione con grandi personaggi che hanno accompagnato nella loro carriera i cantanti più importanti del nostro patrimonio italiano e quindi la serata sarà l'insegna della musica. L'ingresso è sempre libero, chiaramente con il Green Pass e verranno posizionati gli ingressi come abbiamo fatto già per l'edizione precedente, tavuglia in moto, delle persone della protezione civile o altre associazioni di volontariato che controlleranno l'ingresso per il Green Pass, altrimenti è libera, è gratuita. Il sindaco ha inoltre fatto un bilancio sulla precedente edizione di tavuglia in moto che è andata in scena il 16, 17 e 18 di settembre. La prima è andata molto bene, benissimo direi. Sono stati tre giorni intensi, molto partecipati, è andato tutto molto bene, degli spettacoli bellissimi che onestamente anche io non avevo mai visto, in particolare la mototerapia per i bambini con disabilità è stata veramente molto emozionante. Anche di suspense perché vedere questi ragazzi che salgono su delle moto con persone che fanno delle acrobazie ti verrebbe un po' di ansia. Invece è stato bellissimo vederli sorridere e divertirsi molto. È andata benissimo la festa perché anche quest'anno Valentino il giovedì sera è stato intervistato a distanza, lui a Misano chiaramente, però rispondendo alle domande di Mauro Sanchini dal palco di Tavuglia è stato un momento molto bello, partecipato. E torniamo a parlare del territorio di Vallefoglia perché sempre in questa settimana il sindaco Palmiero Ochchielli ha inoltrato una lettera al ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco e all'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Delfante richiedendo l'istituzione di un nuovo ufficio postale a Morciola. Il comune di Vallefoglia che con i suoi 15.000 abitanti attualmente munito di tre uffici postali, dislocato nelle frazioni di Colbordolo, Sant'Angelo, Inelizzo e Montecchio e mentre i primi due offrono servizio per gli utenti delle zone culinari, quello di Montecchio risulta essere costantemente sovraffollato, essendo l'unico ufficio di riferimento per i residenti di Montecchio, Bottega, Morciola e dei comuni limitrofi. E restando sempre nella zona di Bottega, sabato 9 ottobre un gruppo di impresa ha consegnato l'associazione Nonno Mino un nuovo pulmino per il trasporto di persone assistite dalla stessa organizzazione. Un'associazione la cui presidente Bruna Di Berardino, assieme a oltre 30 volontari, si impegna da anni nel fornire un importante sostegno alle persone affette da Alzheimer, alleviando ai loro familiari alcuni disagi legati alla patologia. L'acquisto delle mezzo è stato finanziato da diverse attività commerciali, le quali si sono dimostrate sensibili e solidali verso le tante famiglie che quotidianamente affrontano numerose difficoltà nel trasportare i propri cari. E sempre a Vallefoglia, a seguito appunto delle numerose segnalazioni che ci sono arrivate e al servizio della settimana precedente riguardante la situazione dei rifiuti, soprattutto per quanto riguarda via da Libertà a Bottega, ma non solo, siamo ritornati per vedere se la situazione in questi giorni è migliorata. Dopo le diverse segnalazioni arrivate nelle scorse settimane ci troviamo nuovamente in Via della Libertà a Bottega per il cattivo stato di degrado in cui versa la zona dei rifiuti e come le diverse segnalazioni hanno puntualizzato questo problema. Un'area in cui è presente una scuola elementare e in cui sorgerà il nuovo teatro. Noi siamo tornati nuovamente qui per vedere se le problematiche sollevate dai cittadini e segnalate anche da noi sono state risolte oppure no. Nelle immagini che potete vedere erano presenti calcinacci, pezzi di motore ma anche stendini di plastica e altri oggetti che non erano stati depositati negli appositi bidoni. Ad oggi la situazione è leggermente migliorata, infatti le segnalazioni anche da parte nostra hanno avuto il loro risultato. Come potete notare non sono più presenti pezzi di motore, non sono più presenti stendini o altri oggetti che erano stati lasciati a fianco dei bidoni. Però ancora sono numerosi i rifiuti anche presenti lungo i canneti come i calcinacci, calcinacci che erano stati segnalati ma che non sono stati rimossi. Un degrado che sta piano piano migliorando ma che è causato da un'inciviltà di una piccola parte dei cittadini di Vallefoglia. Noi come Rossini TV attraverso queste segnalazioni che riportiamo cerchiamo di sensibilizzare quella piccola parte di cittadini del territorio. La gente bisogna che sia un po' più educata, nel senso che se sono insufficienti i bidoni nell'immondizia se ne mettono altri. Ma se sono sufficienti non si lasciano lavatoviglie, lavatrici, armade tutto fuori lungo i fossi. È una follia assoluta. Noi abbiamo detto più volte anche di ampliare le isole ecologiche, di mettere un po' più bidoni, insomma di fare in modo che ci sia una raccolta differenziata. Meno robe vanno in discarica o negli altri strumenti tecnologici per il trattamento dei rifiuti è meglio è. Più si recupera è meglio è. Quindi a fare una raccolta differenziata siamo sul 70-80%. Ormai diciamo gran parte dei rifiuti vengono recuperati. Quindi buona educazione e senso civico. E ora ci spostiamo nel territorio di Gabicemare perché nella serata tra domenica 10 ottobre e lunedì 11 il comune, la sede comunale di Gabicemare e la chiesa hanno subito numerose deturpazioni da parte di alcuni manifestanti contrari all'obbligatorietà delle green pass. scritte e insulti a caratteri cubitali, ma per maggiori dettagli sentiamo le parole del sindaco Pascuzzi. Non solo a Roma. Gli atti vandalici da parte di alcuni no green pass si sono verificati anche a Gabicemare dove scritte e insulti sono apparsi sia sui muri dell'edificio del comune che su quelli della chiesa. Gli atti vandalici avvenuti domenica sera 10 ottobre tra le 22.30 e le 22.45 si sono riproposti allo stesso orario anche sul municipio del comune di Cattolica che già nella notte tra il 6 e il 7 ottobre era stato precedentemente imbrattato. Un gesto vigliacco come ha commentato il sindaco di Gabicemare Domenico Pascuzzi. Abbiamo avuto questo atto vandalico domenica sera, quindi torno alle 10.40, 10.30 a 10.40 in cui hanno pensato bene, anzi male, di imbrattare la casa dei cittadini perché poi alla fine è la casa dei cittadini, quindi non colpiscono un partito politico, hanno colpito la città. Mi sono sentito ferito profondamente come se avessero attaccato, comunque fatto qualcosa a casa mia come a casa di ogni cittadino. Adesso con le forze dell'ordine di Carabinieri stiamo cercando di vedere se incrociando i dati, riprese delle videocamere che abbiamo, riuscire a risalire a chi ha compiuto quest'atto. Naturalmente è la stessa cosa, purtroppo è successa anche contemporaneamente qualche minuto prima nel comune di Cattolica, quindi sono atti che poi probabilmente sono frutto di un'esasperazione, di un clima non bello che si respede in questo momento a livello nazionale. Non solo il comune, ma anche la chiesa è stata colpita. Purtroppo hanno fatto anche questa scritta veramente come atto assurdo, di inciviltà totale nella chiesa, sempre qui vicino al palazzo comunale. E anche lì non ho parole per esprimere il disappunto, probabilmente chi ha commesso questo è una persona che ha dei problemi personali, perché se no non si giustifica, perché va benissimo protestare, tutte ammesse in democrazia naturalmente, però atti di questo genere, di inciviltà totale, di mancanza di rispetto per i luoghi singoli, di una città, penso che vadano al di là di ogni motivazione oggettiva, probabilmente sono frutto di un disagio personale, quindi ci piacerebbe poter capire le motivazioni, ma non c'è una motivazione che possa giustificare un atto del genere. Poi naturalmente abbiamo rimosso tutto subito, quindi ieri mattina già non c'era più nulla, perché abbiamo pensato appunto che fosse giusto togliere qualsiasi segnale, comunque qualsiasi scritta prima che iniziasse la giornata, per capire che le istituzioni non si fermano, che non hanno paura. E concludiamo il nostro telegiornale, come di consueto parlando di sport. Iniziamo con la pallavolo, con la Megabox Vallefoglia. Il debutto delle ragazze di coach Buonafede non poteva che essere più complicato, partendo per 3-0 fuori casa contro Conegliano. Nonostante però si trovasse di fronte alle campionesse d'Italia ed Europa in carica, sotto il pieno delle gioche e dell'intensità, la Megabox è uscita dalle campo soddisfatta della propria prestazione. Cauto ottimismo dunque per i prossimi impegni, come quello che la vedrà esordire in casa domenica 17 ottobre contro Busto Arstizio. Per quanto riguarda il calcio e il campionato di eccellenza, l'Atletico Gallo ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva vincendo per 1-0 sulle campo delle Fabriano Cerreto e portandosi al sesto posto in classifica con 8 punti. Nelle campionato di promozioni invece è arrivata alla quinta giornata la prima vittoria stagionale delle K-Sporto e Montecchio, che nelle match casalingo contro la Osimo Stazione si è imposta per 4-1. Sconfitta interna invece per Ile Valfoglia, che cade per la prima volta in il campionato perdendo 3-1 contro il Gabizze Gradara. Per quanto riguarda invece la prima categoria, si è conclusa con Ile Pareggio per 2-2 la sfida tra Cagliese e Osteria Nuova, dove per gli ospiti è stata decisiva la doppietta di Pasini per ridurre per ben due volte lo svantaggio creato. Seconda sconfitta su tre gare invece per l'Atletico Tavuglia, che dopo essere stato in vantaggio per tutta la partita, si è fatta rimontare nei minuti finali perdendo per 2-1 contro la Pesaro Calcio. E con lo sport come di consueto si conclude questa edizione del nostro Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine. Vi ringrazio come sempre per seguirci qua su Rossini TV, vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo il 22 di ottobre e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.